Nome? Pasquale. Cognome? Materno. Età? 23, quasi 24. Città natale? I di Monte. Lavoro? Green Garden, bartender. Classico o freestyle? Freestyle. Perché? Perché mi piace l'innovazione, mi piace giocare, divertire il pubblico. Nome del locale? Green Garden. Cosa ti piace del tuo lavoro? Interazione con i clienti. Hobby? Il nome del tuo cocktail absent? Avatar. Perché dovresti vincere tu? È un coppia del buono e... da provare. Cosa vuoi dire a chi ti seguirà sul web? Votatemi e venite a trovare all'ultimitario. Fai un saluto? Ciao ragazzi.